a mangiare, a colazione, al mare a lavorare, vedete Nardini siamo un candidato ora dimmi se va bene? tutti i gusti, i gusti eh ho detto anche quello che si stiacciava l'unghio il mazzolo si levava il pruro e poi ce lo rinfilava viati ok Toni bene Paolo poverone 9 viva noi Ale i il 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 è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.